Arriva il Weekend del Cuore, come saranno composti questi tre giorni? È un evento organizzato dall'Associazione Amici della Cardiologia del Santa Corona proprio per cercare di sensibilizzare la popolazione su quelle che sono le tematiche del cuore. Abbiamo intitolato il Weekend del Cuore per un cuore sano. Tre momenti. Il primo, giovedì sera, con un incontro aperto a tutti al Cinema Teatro Comunale alle ore 21 con due dottoresse di chiarissima fama che ci parleranno un po' di quelle che sono le problematiche del cuore, che cosa fare, come comportarsi, che cosa evitare, insomma per una sana alimentazione. Poi il sabato mattina, presso gli ambulatori di cardiologia nella piastra del Santa Corona, ci sarà la possibilità di fare gratuitamente un elettrocardiogramma dalle 9 alle 15. Accompagnati dalle volontarie dell'Avo, alcuni medici del reparto della cardiologia faranno l'elettrocardiogramma gratuito alle persone che si presentano. E poi, ultimo momento, una passeggiata del cuore prevista per domenica, domenica 15, dalle ore 9 alle ore 11, partenza da Piazza San Nicolò, una camminata del cuore in due modalità, per chi vuole sgambettare, correre un po' più velocemente e per chi invece vuole farsi una passeggiata. Alla fine ci sarà frutta, frutta secca, bevande per tutti quelli che partecipano. Ecco, ci interessa con questo evento, con questo weekend del cuore, porre al centro che oggi il cuore è veramente importante e abbiamo sempre più bisogno di avere dei comportamenti sani.